Cosa si prova a essere l'uomo gol della tua giovane età? Ma è importante segnare, però comunque è la squadra che mi ha aiutato a fare sia il gol, insomma anche il gol di Cascianelli e tutta la squadra che ha lavorato, poi io ho solo finalizzato ma il merito va a tutta la squadra. E' stato importante segnare subito visto che la squadra comunque si era chiusa già, sono venuti insomma a difendere, quindi era importante sbloccare il risultato e poi giocare a calcio insomma. Anche perché è un risultato importante a fronte delle sconfitte e delle vittorie nella classifica, quindi avete fatto un bel passo avanti. Sì sì, sicuramente i tre punti erano importanti per puntare anche a qualcosa di più insomma. Un giovane Pasquini che diventa sempre più importante per Dina, fondamentale per il torfo, visto che non solo fai gol ma giochi bene anche nel tuo ruolo di conquistare palle, di portare avanti la squadra, di trascinerle avanti anche con una buona velocità. Sì sì, l'importante è comunque buona prestazione, però l'importante è a testa bassa lavorare perché comunque sono giovane, mi metto a servizio del mister e della squadra, poi tutto viene da solo insomma, con il lavoro tutto viene. Questa partita che vi lancia ancora più in alto in classifica? Sì sì, è stata una partita importante, vabbè i gol nel primo tempo li abbiamo fatti, siamo partiti bene e poi nel secondo tempo abbiamo gestito. Sicuramente un piccolo tassello che mettiamo, diciamo abbiamo messo pieno in cascina per l'inverno. Avete affrontato la squadra che aveva la migliore difesa in assoluto in questo girone, solo quattro gol subiti, oggi due nello stesso giorno, quindi siete stati bravi? No, siamo stati bravi ad attaccarli, ad apprezzare alto, non ho detto, il primo tempo è stato molto buono, ovviamente vabbè il secondo abbiamo un po' gestito, però dovremmo fare 90 minuti tutti come il primo, sarebbero un po' difficili. Però avete colpa, quindi più velocità oggi? Primo tempo sicuramente, primo tempo sicuramente. Primo tempo sicuramente,